che stai a fare? Sto contro i miei ragazzi guardate cosa fa guarda dalla finestra guarda dalla finestra se passa qualcuno in base a come camminano capisco se stanno in forma oppure no che stai a fare? Sto contro i miei ragazzi guardate cosa fa guarda dalla finestra guarda dalla finestra se passa qualcuno in base a come camminano capisco se stanno in forma oppure no